Sono Alfredo Galli, sono responsabile della Punto Gold, azienda di produzione di infissi in PVC, alluminio, alluminolennio. Siamo qui a Bari e serviamo dai piccoli serramentisti alle grandi imprese edili. Abbiamo scelto come azienda di partecipare a Casa Smart appunto perché è un trampolino di lancio che può essere molto importante per la nostra azienda, per la Punto Gold.